Esonerare gli studenti di ogni ordine e grado dall'uso delle mascherine all'interno degli ambienti scolastici, così come consentito da tempo in molti altri contesti sociali e di aggregazione, e la richiesta avanzata ai ministri dell'istruzione Patrizio Bianchi e alla salute Roberto Speranza, dall'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolène, anche in considerazione del fatto, riporta una nota dell'assessore, che mancano ormai meno di due settimane dalla fine delle lezioni. In una lettera inviata ai ministri, Rosolène spiega, come riporta una nota, che le ripercussioni negative sul piano psicologico che l'uso prolungato delle mascherine causa a bambini e ragazzi rappresentano una preoccupazione condivisa con le centinaia di famiglie che si sono rivolte all'amministrazione regionale. In queste settimane, con richieste di intervento contro la decisione di prorogare fino al termine dell'anno scolastico l'obbligo dei dispositivi di protezione individuale in classe. L'assessore inoltre ha sottolineato che il nostro paese resta l'unico in Europa ad avere ancora l'obbligo della mascherina in un contesto nel quale sono stati effettuati forti investimenti per assicurare più classi e la scuola in presenza e dove le misure di sicurezza sono garantite e sono tutt'oggi fatte osservare scrupolosamente da insegnanti e famiglie.